Ciao ragazzi, buongiorno! Se guardate questo video significa già che siete arrivati in Moldavia. In questo video vi vogliamo illustrare cosa succederà, dove dovete andare per facilitare un po' la vostra permanenza a Cicino. Una volta arrivato dall'aeroporto sarai portato al Dipartimento Logistico da uno dei nostri autisti. Qui ti sarà dato il cellulare, le chiavi dell'appartamento e anche l'appuntamento per il secondo giorno in clinica. Di solito il primo step inizia con la chirurgia, ovvero quando il nostro autista vi dà l'appuntamento. Se sei un paziente nuovo significa che devi andare nella clinica chirurgicale. Ora ci troviamo davanti alla clinica protettica, ovvero i pazienti che sono già venuti e sanno che il loro secondo step inizia qua. Ma il primo step dobbiamo andare avanti alla clinica chirurgicale. Sempre se sei un nuovo paziente e ti è stato dato un appuntamento per il prelievo del sangue, devi andare sempre nella clinica chirurgicale. Un'altra bella cosa è il fatto che qua si possono fare amicizie e abbiamo una intera terrazza per noi. Abbiamo incontrato dei nostri pazienti e stiamo andando a salutarli. Buongiorno! Buongiorno! E ben ritornati! Grazie! Come va? Bene, bene, bene. Quando vediamo te sempre bene, guarda. Cosa state facendo? Se ti prendo il caffè? Oggi sei allegro? Sì, perché oggi pomeriggio finiscono quei definitivi. Tu sei ritornato? Io sono ritornato, sì. Anche a me oggi mettono i definitivi e vado in cantina. Ehi, vai! Sì, si mangia, si beve, è così. Se c'è un po' di dolore con l'alcol lo mandiamo via, dai! Quella che vedi ora è la nostra clinica chirurgicale e qui è che inizierà il tuo primo step. Sempre qua incontrerai il tuo manager che ti sarà vicino dall'inizio del tuo percorso fino alla fine. Ragazzi, quella che vedete dietro alle mie spalle è la nostra clinica protetica, ovvero qui vi verranno prese le impronte, l'occlusione e ovviamente vi verrà fissata la vostra protesi finale. Andiamo, te la faccio vedere. Sempre qui dovrai fare anche le foto, quando finisci il tuo step dovrai venire qui, c'è la nostra fotografa che ti farà delle foto professionali, quindi avrai anche un book fotografico abbastanza bello. Poi qua c'è Virginia, c'è Oleg, i nostri ragazzi che si occupano dell'aftercare, ovvero dopo che hai finito le cure, quando arrivi a Chisinau ci sarà Oleg e Virginia che ti seguiranno. Qua ovviamente i nostri dottori e siamo sempre arrivati alla sala d'attesa. Ok, io ti saluto, grazie per essere venuto. Ragazzi, non scordatevi di prendere sempre con voi il cellulare che vi è stato consegnato al Dipartimento Logistico perché noi, il Dipartimento di Marketing, vi dobbiamo chiamare per informarvi delle nostre gite, ovvero così, a parte il fatto che venite qua per fare i denti, ma potete anche visitare la Moldavia. Quindi io vi saluto da qui, vi auguro una buona permanenza. Ciao! Asconi!